Ecco, torno al prefetto di Napoli Claudio Palomba che torno a ringraziare e a salutare. Allora prefetto, oggi per verificare l'utilizzo del Green Pass rafforzato in città e provincia, quanti uomini avete schierato e poi come si declinano i controlli? Allora, oltre 400 unità che ovviamente si aggiungono ai controlli ordinari fatti come controllo del territorio perché il piano anti-Covid sostanzialmente va a integrare il piano di controllo del territorio, quindi oltre 400 uomini a cui si aggiungono l'Ispettorato del Lavoro, ASL e ovviamente i controlli che vengono fatti dalle aziende e dalle società, quindi c'è un grosso sforzo di risorse che ci auguriamo ovviamente possa farci superare questa fase delicata soprattutto nei primissimi giorni. Perciò commissariati, polizia stradale, ponfer... Sì, 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 tutte le specialità delle forze di polizia, ovviamente la polizia ferroviaria, la polizia stradale, la polizia marittima per quanto riguarda i porti e la polizia di frontiera. A queste si aggiungono la polizia municipale e anche la polizia della città metropolitana. Ecco, l'hai detto, Prefetto, a collaborare sono chiamate anche le aziende di trasporto. In che modo? Allora, noi abbiamo incontrato sia le associazioni di categoria sia le aziende di trasporto perché il momento è talmente delicato che senza il contributo ovviamente di chi offre il servizio o come esercizi commerciali o come aziende di trasporto, penso che sia assolutamente necessario. Quindi ci siamo mossi in piena condivisione con le associazioni di categoria e con le aziende di trasporto che assicureranno un contributo importante ai fini dei controlli stessi. In caso di necessità, laddove ci fossero eventuali disordini o comunque resistenze, potranno intervenire laddove, tenga presente che noi abbiamo individuato un numero elevatissimo di fermate di bus, fermate di metropolitane, dove in maniera visibile le forze di polizia saranno presenti. Nel momento in cui ci dovessero essere delle resistenze, è chiaro che interverranno subito le forze dell'ordine. Quindi il piano è cadenzato secondo un sistema anche di diversificazione dei controlli nelle varie fermate individuate, quelle a maggiore affluenza, senza comunque, come è stato detto anche nella direttiva del Ministero, andare a intaccare la fluidità delle attività, ci saranno interventi un po' dappertutto. In tutta la provincia abbiamo anche allertato i sindaci delle città o comunque delle comunità della provincia in modo tale che tale servizio venga reso in maniera uniforme anche su tutto il territorio della città metropolitana. Ecco, Prefetto, rimaniamo sul controllo sui mezzi pubblici. Ce ne andiamo insieme a Roma, dove c'è la nostra Simona Vasta e alla stazione Laurentina. Credo siano in corso proprio controlli. Simona, buongiorno, vengo da te. Sì, esattamente. Sono in corso i controlli, controlli che vengono effettuati all'uscita, proprio ai tornelli di uscita. Questo perché? Perché nel momento in cui non viene verificata la presenza del Green Pass, scatta la sanzione e non si può dire di non aver preso il mezzo pubblico. Dobbiamo dire che la Polizia di Stato sta facendo controlli, volti anche ad informare le persone, perché effettivamente ci sono persone che non avevano ben chiaro il fatto che da oggi ci fosse l'obbligatorietà del Green Pass, parliamo comunque del Green Pass base, non quello rilasciato solo per le vaccinazioni o per chi è guarito dal Covid. Quindi ancora, i controlli sono in corso. Dicevamo, ci sono state effettivamente anche delle sanzioni, che ricordiamo sono sanzioni che vanno tra i 400 e i 1000 euro, ma per la maggior parte tutti i controlli effettuati hanno trovato le persone in possesso di questo Green Pass. La Polizia fa i controlli insieme ovviamente alle altre forze dell'ordine. Questo è uno snodo principale, pensiamo a tutti i pendolari che arrivano qui, anche attraverso gli autobus, le linee degli autobus che arrivano in questa stazione, oltre ovviamente ad essere poi il capolinea della linea B della metropolitana, quindi veramente è un bacino di utenza molto importante, ma c'è anche da dire che questi controlli che vengono effettuati, anche dagli stessi controllori che hanno però autorità per gli accertamenti giudiziari, possono proseguire anche via d'ufficio successivamente, perché ad esempio se si dichiara di avere comunque il Green Pass, ma in quel momento non si ha la disponibilità di mostrarlo, vengono comunque poi controllati d'ufficio anche attraverso gli uffici dell'ASL, e nel caso in cui non sia veritiera la dichiarazione, scatta comunque la sanzione d'ufficio. Quindi è importante informarsi, è importante comprendere che per prendere anche mezzi pubblici locali è necessario il Green Pass. Roberto? Allora, molto chiaro Simona, grazie. Peraltro abbiamo visto appunto alle tue spalle polizotti che facevano controlli all'interno della stazione di Laurentina. Prefetto Palomba, per capirci, il personale dell'azienda di trasporto non può fare multe, se ho ben capito, può chiedere il Green Pass e può chiedere a coloro che non hanno Green Pass di allontanarsi dalla stazione. E cosa succede? Davanti ad un rifiuto si chiamano le forze dell'ordine, dico bene? Benissimo, infatti diciamo per adesso ci stiamo muovendo così in attesa, pur essendo comunque in alcuni casi incaricati di pubblico servizio. In ogni caso, in questa fase, di fronte al diniego da parte dell'utente, avviserà le forze dell'ordine, ci sono dei riferimenti precisi delle forze dell'ordine, le quali interverranno immediatamente e ovviamente sanzioneranno nel caso in cui ci sia i presupposti per la sanzione. Allora, abbiamo visto Roma, perfetto. Ovviamente ci muoviamo a campione, preferibilmente in fase preventiva, ma anche in fase successiva, in modo da diversificare le modalità di controllo. Chiaro. Abbiamo visto la stazione Laurentina di Roma, ce ne andiamo a Venezia, perfetto. Lì c'è il nostro Gianfranco Gatto, perché ci sono i controlli anche sui vaporetti. Gianfranco, buongiorno. Autobus Lagunari, insomma. Vengo da te, raccontaci anche lì qual è la situazione. Eccoci Roberto, buongiorno. Allora sì, noi ci troviamo in Piazzale Roma, che è un po' il punto nevralgico della città di Venezia, perché è proprio qui che ogni mattina arrivano le migliaia di studenti, le migliaia di lavoratori pendolari che poi raggiungono il centro storico, soprattutto appunto a bordo dei vaporetti, che altro non sono, come giustamente dicevi, che autobus lagunari. Quindi da oggi, anche per salire a bordo di queste imbarcazioni, è necessario essere in possesso di Green Pass. Parliamo del Green Pass base, quindi quello che si ottiene sottoponendosi a tampone. Noi siamo qui da questa mattina, dalle 7.30 circa. Qualche controllo a campione è stato fatto da parte del personale della CTV, che è l'azienda di trasporto pubblico locale. Ma insomma, ricordiamo che quella di oggi è una giornata un po' di test, un po' di lodaggio, appunto anche per l'azienda del trasporto. Quindi, insomma, sembra che stia prevalendo un po' una linea abbastanza morbida, almeno qui a Venezia, e a confermarci, sono stati alcuni studenti che abbiamo sentito questa mattina, proprio al loro arrivo in città, per raggiungere i propri istituti in centro storico. Li ascoltiamo e ti restituisco una linea. Stamattina non avete visto controlli negli autobus, nessuno vi ha chiesto nulla, per il momento? Per il momento nessuno ancora ci ha chiesto nulla, si vedrà. Nessun rallentamento? Neanche nessun rallentamento, tutto molto come tutti gli altri giorni. Non mi è stato controllato né niente, né da controllori, o comunque da staff che fosse in autobus o alle fermate, zero, niente. Una mattinata di lodaggio, cioè abbastanza tranquilla. Sì, sì, solito, come se niente fosse cambiato, ecco. Arrivo da Mestre e prendo per venire a Venezia l'autobus. Adesso prendi la scuola e prendi il vaporetto? No, no, me lo faccio camminando con i miei compagni di classe. Green pass? Ce l'ho. Vi è stato controllato questa mattina? No, niente, è tutto normale. Nessun rallentamento, nessuna coda? No, no, niente, ho preso l'autobus normalmente come tutti gli altri giorni. Ecco, allora, grazie anche a Gianfranco Gatto, appunto, per il racconto e soprattutto per queste voci che ci arrivano da Venezia e torno dal prefetto Palomba, che ci dimostrano appunto come i controlli vengono fatti a campione. Insomma, sarebbe impossibile, chiaramente, controllare milioni di persone che si muovono. Sì, ma è anche specificato nella norma, nonché nelle direttive. Sarebbe del tutto impossibile garantire, vista la molteplicità di servizi che vanno controllati, dei controlli a tappeto. Quindi sono state scelte, immagino, da tutte le prefetture, perché ognuno di noi ha fatto un piano. Anzi, ci sono state anche indicate, per esempio, dalle aziende di trasporti, le fermate a maggiore rilevanza. Quindi in quelle, diciamo, stazioni, ovviamente ci saranno dei controlli a campione che è anche, diciamo, più utile, se vogliamo, nel senso che in qualche modo non intacca la fluidità delle attività, ma al tempo stesso ci consente di fare più controlli anche in orari diversificati e con modalità diversificate. Ecco, non intacca la fluidità del lavoro ordinario. Questo è importante da sottolineare, Prefetto. Cioè le attività ordinarie vanno avanti e vanno avanti ugualmente, così come ogni giorno si fa in questo Paese, se, malgrado alcuni uomini, siano stati in qualche modo destinati al controllo del Super Green Pass. Sì, infatti, questo è specificato anche nella delettiva del Ministro dell'Interno. Cioè dobbiamo assolutamente controllare l'applicazione e verificare, diciamo, l'osservanza delle norme. Ma al tempo stesso garantire che i servizi non abbiano, diciamo, dei rallentamenti e quindi che ci sia fluidità nel servizio, anche per evitare assembramenti, soprattutto per i controlli all'ingresso. Insomma, quindi è assolutamente necessario muoversi con equilibrio e moderazione, ma al tempo stesso con fermezza. Allora, siccome sono milioni, insomma, di studenti che ogni giorno, appunto, prendono i mezzi pubblici, facciamo un punto anche, appunto, sui più giovani, quali sono le regole per i più giovani. Ci vediamo, prefetto, insieme anche a questo servizio e poi torno da lei. Per ridurre ricorso alla DAD, esercito e generale figliuolo che dovranno essere subito operativi a risolvere due questioni su cui finora moltissime AS hanno fallito o non sono riuscite fino in fondo. Garantire un testing tempestivo in caso di contagio far partire all'istante il tracciamento. Dall'Associazione Nazionale Presidi, l'appello all'intervento dell'esercito e del generale figliuolo per contenere i contagi e l'ineluttabile ricorso alla DAD nella scuola. Se qui non si migliora, dice il presidente Antonello Giannelli in un'intervista solo 24 ore, qualsiasi protocollo per gestire il Covid nelle scuole, salvando le elezioni in presenza, è destinato a rimanere inattuato. La didattica a distanza, soprattutto tra i più piccoli, ha mostrato di essere ancora acerba come percorso formativo adeguato. Secondo i dati forniti dall'Associazione Presidi, saranno già 10.000 le classi in DAD con l'arrivo dei mesi invernali. La risalita dei contagi e le elezioni in presenza sembrano sempre più a rischio. Il 29% dei positivi in Italia, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, è under 20. Nel report, il 51% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia 6-11 anni, il 33% nella fascia 12-19, solo l'11% e il 5% sono stati diagnosticati rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. Dati in costante crescita che mostrano comunque la validità dei vaccini. Dal 16 il via libera nelle fasce d'età tra 6 e 12 anni. Un siero sicuro, ribadisce il coordinatore del CTS, Franco Locatelli. Bisogna vaccinare i bambini per la loro salute, è un bel regalo di Natale per i bambini, dice ancora, sottolineando che vaccinare i propri figli è un gesto d'amore. Maria Cristina Boschetti, Sky TG24. Ecco, vaccinare i propri figli è un gesto d'amore, ci diceva la nostra collega prefetto. Vogliamo ribadire un concetto che il Super Game Pass è una garanzia per la salute collettiva, e di questo noi stiamo parlando, ma che consente anche alle attività commerciali di non chiudere, soprattutto in un periodo come questo, prenatalizio o natalizio. Guardi, sì, di fatto io faccio anch'io un appello richiamando le ultime parole, è un gesto d'amore per i figli e anche per le persone più anziane, e soprattutto in una fase come questa non ci possiamo, soprattutto sotto al Natale, rischiare che salti l'attività commerciale, gli esercizi commerciali e tutte le altre attività. Quindi il mio appello è soprattutto ai genitori e ai familiari, fate questo gesto d'amore verso i ragazzi e soprattutto, innanzitutto, chi non l'ha ancora fatto, che si vaccini e che faccia, diciamo, il percorso vaccinale. È assolutamente essenziale, come i dati dimostrano, i casi più, diciamo, preoccupanti sono quelli di persone che non si sono vaccinati anche con questa nuova ondata. Per cui è assolutamente essenziale completare al massimo il percorso vaccinale e soprattutto, insomma, a genitori o comunque a persone anziane chi ha questi tipi di rapporti è indispensabile, penso, nell'interesse non solo della famiglia ma anche, diciamo, della nostra città. E poi, siccome abbiamo parlato, insomma, molto stamattina di controlli a campione, questo, appunto, prefetto, richiama il senso di responsabilità, poi, di tutti noi, no? Che poi è un po' l'architrave degli atteggiamenti, insomma, che noi dobbiamo tenere in questo Paese. Decisamente, appunto. Partiamo proprio dal senso di responsabilità di ognuno di noi. Sono atti che noi facciamo oltre che per noi stessi, anche per gli altri. Ci sono attività commerciali, c'è il Natale, non solo il Natale da difendere, è assolutamente indispensabile. Per cui abbiamo avuto anche esempi recenti, purtroppo, di decessi di persone che hanno scelto di un vaccinarsi in terapia intensiva. ci sono prevalentemente persone non vaccinate, quindi che si facciano le dovute riflessioni perché possiamo trascorrere un Natale sereno sotto tutti i profili. Ecco, Natale sereno, allora le faccio un'ultima domanda in vista delle feste, mi riferisco anche a Capodanno, insomma, ormai mancano pochi giorni. Possiamo immaginare per la città di Napoli ulteriori limitazioni, magari limitate solamente ai giorni di festa? Ma guardi, questo è un tema di cui ovviamente ne discuteremo con il Sindaco, con il Presidente della Regione e in relazione alle evoluzioni, diciamo, dell'espansione del Covid, si valuterà. Ovviamente sono decisioni prevalentemente politiche, ma il buonsenso, e devo dire che fino adesso, negli incontri che abbiamo avuto, abbiamo sempre condiviso alcune scelte, continueremo a farle nell'interesse di Napoli, che ha e attraversa un momento delicato, non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sotto il profilo economico, quindi è interesse di tutti. Ecco perché con Sindaco e con Regione abbiamo voluto condividere queste scelte per i controlli con le associazioni di categoria e con le aziende. Se non si lavora in maniera condivisa, non se ne esce, diciamo, e l'interesse della città di Napoli è soprattutto questo. E questa è un po' la bussola appunto che lega insomma un po' tutti nel lavoro che si sta facendo. Prefetto Palomba, grazie per essere stato con noi stamattina, le auguro buon lavoro e a presto. Grazie, buon lavoro anche a voi, buona giornata. Grazie a tutti.